L'ex fenomeno del calcio inglese Michael Owen ha deciso di provare ancora a lasciare il segno nella Premier League. Il 32enne svincolato dal Manchester United lo scorso maggio dopo tre stagioni all'Old Trafford piegate dai infortuni ripartirà dallo Stock City. La squadra di Martinez è il quinto club per il ragazzino che aveva stupito il mondo ai mondiali del 98. Dopo aver fallito al Real Madrid, al Newcastle e allo United, Owen ha rifiutato il ritorno ad Anfield otto anni dopo il trasferimento a Madrid. A vincere la corsa per aggiudicarsi il talentuoso ma fragile Owen e quindi lo Stock, ansioso di rimanere un altro anno in Premier League. Martinez per ora sarebbe contento di poter schierare Owen con regolarità, qualcosa che non gli è riuscito negli ultimi anni. Dopo quattro sole presenze per il Red Devils l'anno scorso, Owen avrà un'altra possibilità, forse l'ultima, di farsi notare.